Ok, buon pomeriggio. Allora, quello che vorrei riuscire a fare oggi è... Allora, noi abbiamo ancora... fatemi fare un passo indietro. Noi abbiamo, compresa l'ora di oggi, abbiamo ancora quattro ore e mezza, compresa quella di oggi, da dedicare ai form e alle sessioni. E quello che vorrei fare oggi è provare a finire, o quantomeno arrivare più in fondo possibile, con gli aspetti, diciamo così, teorici. Quindi vedere come il form viene utilizzato da Flask, e vedere che cos'è una sessione, quindi andare avanti un pochino sui concetti, e poi dedicare le prossime tre ore, che avremo ancora a disposizione per questo, per fare uno o più esercizi, in modo da mettere insieme tutto quello che abbiamo visto su form e sessioni. Invece di fare un pezzettino oggi, un pezzettino lunedì, e un altro pezzettino ancora dopo lunedì, intervallato dalle lezioni. Vista anche, ovviamente, la nota scarsa partecipazione di alcuni giovedì, quindi ovviamente voi, vi ringrazio molto per essere qui, per non farmi parlare davanti a una la vuota, però, magari facendo gli esercizi lunedì, dove la partecipazione è maggiore, se ci sono dei dubbi, delle domande, è più facile intercettarli lì, visto che poi l'esame e i laboratori, eccetera, hanno comunque un'impronta assolutamente pratica, e non tanto teorica sui concetti che vedremo, i concetti ci servono, ovviamente. Quindi oggi quello che provare a fare è completare la parte, diciamo così, teorica, concettuale, che su form non è che ci sia ancora molto da dire, sulle sessioni un po', anche come concetti, e poi provare a mettere tutto in pratica nelle tre ore di martedì, di lunedì. Quindi lunedì poi potremmo fare tre ore di pratica, praticamente, e lasciare perdere del tutto, o quasi del tutto, le slide, se non ci serve recuperare qualche concetto specifico. Ok? Quindi, lunedì abbiamo visto i form in HTML, giusto per fare un piccolo recap. abbiamo visto che i form sono fatti tipo in questo modo, hanno un tag form che deve avere, a differenza di quello di questo esempio, un attributo metodo, che specifica il metodo con cui è inviato il form al server, quindi dal client al server, è anche un action che è l'indirizzo a cui questo form andrà a inviare le informazioni. Perché, se ricordate, il form è quello che utilizziamo per permettere alle persone di darci delle informazioni. E abbiamo detto, per esempio, che i form che utilizziamo, uno che utilizziamo spessissimo è il form di login, che è un form che ci permette di avere un utente password, per sapere se una persona è autorizzata, anzi, per autenticare una persona in modo che possa fare alcune operazioni secondo il suo livello di autorizzazione. Quindi, se voi vi collegate al sito del Politecnico, con la vostra matricola, la vostra password, voi entrate nel portale con l'autorizzazione del studente. Se lo faccio io, entro sul portale con l'autorizzazione del docente. E quindi ho una vista, ho delle pagine che sono diverse da quelle che vedete voi. Quindi, il sito si adatta in base, mi mostra alcune cose, fa fare alcune cose in base a chi è la persona, a quale ruolo la persona entra. E questo ruolo viene dato, in quel caso, con un form, che è il form di login. E abbiamo anche detto che il form ha una serie, alla fine, ha una serie di campi, che sono label, input e quant'altro. Input di vario tipo, può essere email, può essere password, può essere numero, ci possono essere una serie di vincoli, vincoli, quindi un campo, un input, può essere obbligatorio, può avere una lunghezza minima, massima. Se c'è un numero, può essere un numero compreso da, tra un numero e un altro, eccetera. Può avere anche un pattern, quindi un'espressione che deve essere riconosciuta, come una mail, in cui ci deve essere un qualcosa, una chiocciola, un qualcos'altro. Quindi un certo pattern, che è specifico delle cose che vogliamo riconoscere. E un bottone, tutti i form, questo esempio non ce l'ha, ma tutti i form hanno anche un bottone, che è il bottone, almeno un bottone, che è il bottone di invia le informazioni del form. Che nel caso del login è login, ma in altri form, se fosse un form per completare un acquisto, per dare le informazioni di spedizione, sarà salva, sarà completa l'acquisto, eccetera. Che prendi i dati del form e li manda al server, che è dove vengono fatte tutta una serie di verifiche. Quindi, come dicevamo prima, il form del login manderà un motente password al server, che verificherà cosa verificherà il server una volta che riceve un motente password? Se esiste cosa? Se esiste il username, e basta? E se la password è corretta? E che sia o non è formato corretto. Diciamo, se l'username è una mail, verificherà che l'username sia una mail, per esempio. Quindi, il server fa operazioni di verifica e fa delle operazioni logiche, che sono, nel caso del login, verificare che l'username sia registrato, sia valido, sia registrato, e se è valido e registrato, nel caso del login, verificherà poi se c'è una password, se è valida, se non è vuota, per esempio, e se è quella associata all'username che è stato inserito. Quindi, non se è solo una password valida, perché magari c'è un altro username che ha quella password, ma a lui interessa che sia ovviamente la password dell'utente specifico. E se lo è, cosa succede? Se è tutto valido, è tutto posto, cosa succede? Cosa farà il server? Invererà la pagina, la pagina corrispondente, non so, se fai il login sul sito del portale, sul sito del Poli, vedrete il portale della didattica. Se invece il nome utente e la password è sbagliato, ti comparirà qualcosa che dice che c'è un errore. E nel caso del login, lo vedremo quando parleremo del login, questo errore è tipicamente... Cosa dice l'errore quando mettete il nome utente sbagliato? Nomotente o password o sbagliata. E se mettete la password o sbagliata? Pure. Perché non dice nomotente sbagliato o password o sbagliata? Sì, non gli viene detto, se notate gli errori di messaggio del login, poi torniamo su form, non sono mai specifici, per quel motivo che diceva lui. Per cui se voi, quando sbagliate il nome utente o la password, vi dice nomotente o password sbagliata, non vi dice quale delle due sbagliate, per motivi di sicurezza. Perché se mi metto il nome utente giusto e la password sbagliata e lui mi dice la password sbagliata, se uno è un utente malevolo, gli state dando l'indicazione, ok, ho azzeccato il nome utente, ora devo solo azzeccare la password. Non può succedere il contrario, ovviamente, non può dirmi password corretta se il nome utente è sbagliato, perché non è la sua, no? Di chi è. Però mi taglia un'indicazione, mi dice il nome utente è quello giusto, ora prova a indovinare la password. Invece se dice nomotente o password sbagliata, non dà questa indicazione a un utente malevolo, per cui questa persona non può sapere se è il nome utente che è sbagliato, se è la password che è sbagliata, se sono entrambi sbagliati, perché non esiste quell'utente, quindi gli lascia un campo di esplorazione per provare a entrare nel sito più ampio rispetto a dirgli guarda, devi azzeccare otto caratteri di una password e poi ce la fai, sei entrato. Quindi per complicare, per dare meno informazioni a un possibile attaccante, no? Quindi questo rientra nell'ambito di sicurezza. Però gli dà un messaggio d'errore indietro. Quindi in base a quello che deve fare, dà un messaggio d'errore indietro. Se fosse un form per, non so, comprate su Amazon, avete qualcosa nel carrello, a un certo punto dovete dirgli l'indirizzo, quindi inserirete, se non l'avete mai inserito, o selezionerete un indirizzo. Inserite l'indirizzo, premete, o il numero della carta di credito. Premete invio, sottometti, e cosa succede? Lato server? Cosa succederebbe lato server? Mettiamo l'indirizzo. Cosa succederebbe lato server? Prende l'indirizzo, va bene. E? Verifica se esiste, sì. Potrebbe fare qualche verifica, adesso è difficile dire, no? Se l'indirizzo esattamente esiste, però se è corretto, se la città esiste, se il codice di credito postale esiste, queste cose qui, può verificarle, magari non verifica che la via esattamente esista, con il numero civico, potrebbe non essere così sofisticato, però è il problema tuo, se vuoi comprare qualcosa e spedirlo a un indirizzo che non esiste, l'azienda è contenta perché tanti soldi se li hai presi, tu non tanto perché non ricevi l'oggetto, però questo, no? Cosa applica delle tariffe, in base allo stato, applica delle tariffe? Esatto, potrebbe scegliere le tariffe diverse di consegna, del corriere, o del tempo, magari se lo spedisci su, non so, un'isola ci vuole più tempo rispetto a spedirlo di fianco al magazzino, no? Quindi fa queste serie di verifiche, ha queste serie di socconti, e poi dopo che l'ha fatta, restituisce comunque una pagina che dice, se va tutto bene, dice, acquisto completato, dirà qualcosa del genere. Se va male, dirà, la città inserita non esiste, per esempio. Oppure non esiste Torino in provincia di Catania, se uno ha inserito la città giusta ma la provincia è sbagliata. Farà una serie di verifiche che è difficile magari fare lato client, perché dice, inserire città, inserire città postale e selezionare provincia da un elenco. Io inserisco 15100, Torino, Catania. E queste tre cose insieme non funzionano, perché 15100 è la provincia di Alessandria, Torino non è in provincia di Alessandria, e sicuramente Catania non è la provincia giusta per Torino. E non è la provincia giusta per il codicento postale. Quindi queste verifiche è difficile che possa fare il client, ma il server potrebbe farle. Poi nessuno va a fare queste stranezze, però può capitare uno sbaglio, una lettera in più, una lettera in meno. Quindi, queste sono informazioni che noi mettiamo in un form, che abbiamo detto strutturato come prima, e quindi le mandiamo a un server, nel nostro caso a Flask. Le mandiamo, abbiamo detto, o con una post o con una put, non le mandiamo con una get, perché le informazioni di un form mandate in una get sono visibili dove? Nella barra degli indirizzi del browser. Quindi è buona norma mandarli con una put, che essendo pacchetti HTTP con un corpo del messaggio, i dati del form finiscono nel corpo del messaggio del pacchetto HTTP, e quindi non sono visibili nella URL. Quindi la URL rimane pulita e il pacchetto viene mandato dal browser al server. Ricordate sempre che noi faremo girare, l'ho già detto lunedì, ma noi faremo girare tutte le cose, tutto sul nostro computer, ma dobbiamo immaginarci sempre che il browser, il client giri da qualche parte, e il server stia invece da qualche altra parte. Quindi c'è davvero una comunicazione attraverso internet da queste due entità, il client e il server. Quindi quando mandiamo un form, mettiamo le dati di un form dentro un pacchetto HTTP che viene spedito attraverso internet al server. Server che potrà recuperare queste informazioni, leggere e fare le verifiche che vogliamo fare le verifiche. e Flask nel nostro caso prende tutte queste informazioni dalla variabile request, che avevamo già accennato, che è quell'oggetto che rappresenta la richiesta che viene fatta al server. Quindi che rappresenta il pacchetto HTTP in Python che il server riceve e quindi tutte le sue informazioni. E dato che un form manda queste cose nel corpo di una richiesta in un formato particolare, Flask si accorge quando ci sono queste richieste e ce le rende disponibile in una variabile specifica che si chiama form. Quindi noi possiamo scrivere request.form e avere accesso a tutti i dati del form che l'utente ha inserito. Quindi questo è un dizionario dove ogni campo, ogni nome di ogni input è il nome e la chiave all'interno del dizionario. Quindi se noi avessimo per esempio un'età nel nostro campo di input o un indirizzo eccetera potremmo scrivere request.form aperta quadra tra virgolette il nome della chiave che sarà età, indirizzo o quant'altro. E poi salvare in una variabile e una volta che abbiamo in una variabile ne facciamo quello che riteniamo opportuno. E request è un oggetto implicito di cui abbiamo già citato ma che occorre importare all'interno di Python. Quindi noi già importiamo una serie di cose da Flask render template eccetera raggiungeremo un virgola request. E ovviamente essendo un dizionario c'è anche la modalità più safe di recuperare l'informazione che è request.form.get aperta parentesi e tra virgolette qui mancano le virgolette tra virgolette la chiave che voi ricorderete perché è più safe usare get invece di accedere direttamente a un dizionario in Python? Questo è Python quello per chi l'ha fatto al corso di informatica del primo anno. chi lo sa? Esatto il comportamento è diverso nel caso di chiave non trovata Allora se no nel caso di valore trovato restituiscono il valore trovato fine quindi si comportano in maniera identica nel caso corretto il comportamento è diverso nel caso non corretto quindi nel caso in cui ci sia un campo età si comportano uguali nel caso in cui il campo età non c'è perché magari voi l'avete scritto l'avete cambiato il nome nel file HTML e l'avete scritto in inglese e qui l'avete scritto in italiano viceversa il campo non c'è allora il primo dà errore e il secondo invece restituisce un valore di default che può essere intercettato più facilmente rispetto all'errore quindi questo errore chi è? error se ovviamente non esiste e per le url parametriche noi abbiamo detto non lo non lo facciamo non mandiamo un form con una get ma se mandassimo un form con una get o avessimo bisogno di recuperare le url parametriche quindi le informazioni che inseriamo in una url che magari non è un form magari sono altre informazioni perché abbiamo formattato noi il link in quel modo abbiamo visto come fare quando abbiamo parlato delle rute dinamiche quindi col punto di domanda la e commerciale eccetera si può utilizzare un altro oggetto un altro dizionario di request che è .args che è punto argomenti della url punto get o aperta quadra di nuovo e il campo quindi questo age è un qualcosa che sarebbe punto di domanda age uguale oppure punto di domanda qualcos'altro è commerciale age uguale quindi è il valore la chiave in un certo senso che compare nella url prima dell'uguale quindi questo è per dire esiste l'equivalente anche per sia che venga mandato un form in get sia se uno ha bisogno di recuperare un'informazione dalla url indipendentemente da fatto che arrivi tramite un form oppure no e abbiamo detto quando riceviamo un'informazione quindi lì abbiamo un'informazione l'abbiamo in una variabile a questo punto dobbiamo validarla verificare che sia corretta e poi applicare tutte le logiche per rigenerare un'altra pagina allora la validazione si può fare è una variabile quindi si può fare manualmente se avessimo un'età potremmo per esempio dire che l'età non può essere zero no? e potremmo anche avere un limite superiore se volessimo però sicuramente uno non può avere zero anni soprattutto non una persona che compila un form e quindi potremmo controllare se l'età è maggiore di zero allora fare qualcosa altrimenti generare quell'errore che dicevamo prima o e anche potremmo verificare che per esempio età sia un intero perché uno non può inserire età ciao perché ciao non è un'età valida allora il client dovrebbe già verificare queste cose con un type number appropriato però abbiamo detto che è sempre meglio riverificare anche nel server per sicurezza e allora qui possiamo riverificare che per esempio l'età sia davvero un numero intero e non una stringa o quant'altro e allora se l'età esiste quindi se quel campo non è vuoto e è un numero intero in questo caso allora potrei verificare che se l'età è maggiore di zero e a un certo punto dopo un po' di verifiche quantomeno quelle fondamentali posso ritornare la pagina grazie per aver inserito i tuoi dati i tuoi dati sono salvati oppure una pagina d'errore che vado a dirmi che c'è un errore nel form e quindi chiede di ricompilarlo ricompilarlo correttamente e allora in questo caso si può anche dire c'è un errore nel form l'età non è corretta in modo da indicare alla persona che ha compilato il form dove era l'errore oppure immaginiamo ad avere un'età anche un limite superiore uno potrebbe dire che l'età deve essere minore di 110 per esempio o di 100 e allora se uno inserisce per sbaglio 1000 invece di 100 allora ovviamente quel form restituisce un errore in quell'altro senso quindi una serie di validazioni da fare che si possono fare manualmente oppure ci sono alcune dell'equivalente manuale fatto in automatico da estensioni tipo VT form che abbiamo citato qualche volta fa quindi uno installa questa estensione e utilizza le funzioni le capacità i decoratori messi a disposizione da questa estensione per fare alcune verifiche tipo che l'età sia un numero e che l'età sia un numero il cui minimo è 1 quindi che non ci sia nessuno 0 oppure di nuovo se l'età fosse per qualcosa che qualcuno deve essere maggiorenne che sia maggiore o uguale di 18 e quindi non accettare 15 perché non sarebbe appropriato in quel contesto quindi una serie di validazioni da fare di nuovo sul server che saranno duali in un certo senso da quelle che faremo sul client più alcune validazioni come dicevo prima per esempio potrei verificare che la provincia e la città il codicemento postale siano coerenti cosa che magari viene più difficile da fare sul client quindi questo ripeto si può fare manualmente si può fare con delle estensioni come vtf form si può fare tutte e due perché magari il controllo sull'allineamento tra codice di ente postale città e provincia non è un qualcosa che ovviamente un tool uno strumento una libreria come vtm form può supportare perché è un qualcosa di molto specifico che dipende dal tipo di dato che state analizzando in questo caso che mette insieme campi diversi addirittura e quindi quello si può fare ovviamente solo manualmente e ovviamente questa validazione dipende fortemente da quello che volete ovviamente fare voi quello che form richiede in maniera specifica torno indietro ci arrivo dopo e a questo punto dopo che abbiamo fatto la validazione abbiamo fatto i controlli dopo che abbiamo fatto implementato la logica a quel punto siamo in python quindi possiamo implementare la logica che ci serve per prendere delle decisioni come dicevamo prima se voi fate il login sul portale vi darà se avete un ruolo collegato a quell'utente la studente vi darà una pagina se siete un docente vi darà una pagina diversa e a quel punto andrete a dopo una serie di if dopo una serie di controlli andrete a fare un render template passando a questo template le informazioni che vi servono da visualizzare o addirittura un render template di pagine diverse se siete studenti avrete la student.html se siete docenti avrete la teacher.html ma in ogni caso passerete probabilmente alcune informazioni dal form magari il nome per cui quando voi fate il login c'è scritto da qualche parte il vostro nome allora quella è un'informazione che può tornare indietro nella prossima pagina web e questo lo facciamo esattamente come passavamo qualunque altro tipo di variabile in Python quindi niente di nuovo da questo punto di vista perché a quel punto le informazioni del form sono variabili e quindi se dobbiamo restituirne e ritornarne indietro qualcuno semplicemente scriveremo virgola il nome della variabile che vogliamo passare alla pagina uguale il nome della variabile che abbiamo nel codice esattamente come abbiamo fatto finora e nel template esattamente come abbiamo fatto finora semplicemente la useremo all'interno di parentesi graffe quindi da questo punto di vista non cambia niente quello che cambia è appunto nella ricezione del form e nel recupero delle informazioni dal form per la loro manipolazione e ogni tanto può anche essere utile in Flask soprattutto quando riceviamo informazioni da un form ma magari anche in altre occasioni di avere un po' di log di quello che succede per verificare alcune cose per lanciare degli errori per lanciare dei warning per anche mettere informazioni che ci servono per fare debug e questo ci dà la possibilità Flask ci dà la possibilità di farlo in questo modo con questo app.logger punto qualcos'altro questo app.logger punto debug e tra parentesi una stringa da visualizzare stamperà tra log del server quindi quando il server è in esecuzione stamperà la stringa da visualizzare e qui anche ovviamente con modalità di interpolazione delle stringhe simile a quelle che potreste avere con print quindi questo in un certo senso è l'equivalente del print ma separato tra debug warning quindi vi dice se decidete voi anzi come sviluppatori se quel valore quello che state visualizzando è solo lì per motivi di debug e poi se tutto viene utilizzato non in modalità sviluppo quelle non si vedono più oppure se è un avvertimento quindi qualcosa che è lecito ma magari può essere da tenere sott'occhio oppure è proprio un errore e questo può essere utile per comunicare errori ma anche a voi per sapere che cosa sta succedendo in un momento specifico nel tempo all'interno del programma Flask per vedere per esempio se viene chiamato un certo pezzo di funzione se una certa root viene chiamato oppure no magari provate a fare qualcosa non viene e allora un modo può anche essere avere qualche istruzione senza esagerare di log che vi fa vedere che cosa sta succedendo se è il valore che è arrivato al server che avete estratto è corretto oppure no se dovete fare qualche operazione aggiuntiva perché nella stringa ci sono dei caratteri speciali quindi dovete toglierli prima di elaborarvi perché se no il risultato non viene corretto non viene renderizzata la pagina correttamente su client di risposta eccetera questo ripeto serve soprattutto introducendo il form perché con il form introduciamo la possibilità alle persone di mandare informazioni queste informazioni possono anche essere sbagliate possono anche essere scritte male quindi io posso chiedere il nome e una persona scrive spazio e poi il nome e magari questo spazio all'inizio o questo spazio alla fine mi crea problemi per quello che devo fare nel server e non me ne accorgo finché non vedo la pagina dopo dove il nome magari è solo lo spazio e quindi invece di leggere benvenuto Marco vedo benvenuto e basta è spazio quindi non vedo niente e allora posso sicuramente andare a mettere dei breakpoint fare dei bug nel server ma posso anche avere qualche istruzione di log che in alcuni casi mi notifica cosa succede cosa non succede e quali sono gli errori quindi soprattutto per gli errori ovviamente questo vale valeva per quello che abbiamo fatto finora vale ovviamente col form vale per tutto quello che faremo su Flask in seguito quindi anche quando useremo il database che può generare un'altra serie di errori in base alle operazioni che facciamo questo può essere un modo anche per stampare per visualizzare gli errori che il database ci metta ci offre per capire cosa sta succedendo e cosa non sta succedendo quindi questo è come funziona un form normale di testo quindi il browser ci manda le informazioni dentro un pacchetto HTTP dentro se lo mandiamo composte put dentro il corpo di un pacchetto HTTP noi in Flask possiamo prendere da request.form .get i vari campi del form da request.form avremo tutto un dizionario con tutto il form quindi possiamo ciclare sul dizionario eccetera in base a quello che ci serve fare le verifiche applicare la logica che vogliamo applicare in base a quello che vogliamo fare e poi alla fine restituire un errore restituire una pagina restituire quello che vogliamo eventualmente con alcune informazioni inserite nel form questo è quello che capita con i form di testo con i form che caricano file la faccenda è un pochino diversa non tantissimo ma un pochino diversa perché i file non sono ovviamente testo quindi hanno una caratteristica al lato server che è quella che necessitano di essere salvati su disco sul server perché appunto il nome o l'età o l'indirizzo in un form di testo viene vista come variabile poi io posso salvarla su un database quando apriamo il database posso solo verificare poi ignorarla e non ricordarla più ma un file se chiedo alla persona caricami la tua immagine profilo quell'immagine profilo dovrò salvarla sul disco non potrò ignorarla quindi hanno questo pezzo in più che è il salvataggio sul disco del server del file che è stato sottomesso e anche il form lato HTML cambia levemente abbiamo visto il controllo per caricare un file l'altra volta ma quando si manda un file un form con all'interno un file bisogna aggiungere questa istruzione enc type multipart form data per specificare che non è un form tradizionale con solo numeri testo eccetera ma è un form che ha delle informazioni multiparti che ha anche quindi dei dati aggiuntivi che sono il file stesso quindi quando noi carichiamo un'immagine un pdf nel client questo client questo pdf va passato al server all'interno del pacchetto HTTP insieme alle altre informazioni che abbiamo nel form quindi magari abbiamo nome nome utente password eccetera e immagine del profilo quindi tutte queste informazioni vanno passate a server nome nome utente password vengono passate come testo come abbiamo visto prima ma il file è speciale in un certo senso quindi va prima di tutto specificato che ci sarà un file con questo enc type multipart form data da inserire nel tag form e questo funziona solo ed esclusivamente col post col put col patch quindi col get non si riesce a farlo funzionare semplicemente non trasferisce il file il browser trasferisce tutto il resto se non c'è questo enc type e in flask mentre le informazioni del form sono su request.form le informazioni su un file che arrivano da un pacchetto http sono sempre in request perché è il pacchetto che arriva ma in un .files quindi request files file ci da tipicamente il file che è fornito da quel da quella richiesta http quindi così prendiamo in un certo senso il file ma l'abbiamo in memoria in una variabile su python e poi dobbiamo salvarlo per poterlo poi rileggere e utilizzare quindi questo file che noi recuperiamo da request.files ha poi un metodo save che ci permette di specificare dove sul computer su cui gira il server questo file andrà salvato e fate attenzione questo lo ripeto è il percorso sul computer dove gira il server mentre il client selezionerà il file dal percorso del computer su cui gira il client che se sono lo stesso computer possono essere percorsi simili ma non ci si può legare a un percorso specifico o dire il client caricherà sempre i dati da quella cartella perché voi non sapete che computer avrà come saranno organizzate le informazioni sul computer di chi avrà il client mentre questo percorso sarà certo in un certo senso perché il server girerà su un pc non cambierà il computer su cui girerà il server mentre il computer su cui gira lo stesso client di quel server può essere qualunque anche il sistema operativo può essere qualunque quindi questo è una cartella uploads in questo caso all'interno del progetto quindi all'interno del progetto flask e questo uploaded file .txt è il nome in cui il file che è stato caricato verrà salvato in questo caso supponiamo sia un file .txt quindi bisogna mettere il percorso e anche il nome del file con estensione in realtà prima di salvarlo e se vogliamo recuperare il nome del file originale quello che è stato scelto da chi l'ha caricato possiamo farlo e possiamo farlo da questa proprietà che è file name dal file caricato quindi il file caricato lo recuperiamo da request.files file e questo uploaded file ha anche una proprietà che è file name che dice il nome del file con estensione così come è stato caricato dalla persona che l'ha sottomesso quindi se volessimo per esempio utilizzare il nome originale per salvarlo potremmo farlo quindi potremmo recuperare questa informazione e poi salvarlo direttamente esattamente come prima col metodo save però prima di fare questo bisogna utilizzare quindi non possiamo scrivere file name uguale uploaded file punto file name ma bisogna usare questa funzione secure file name che verifichi e sanitizzi il nome del file per cui se il nome del file ha dei caratteri illegali o ha delle istruzioni particolari che non sono valide per esempio nel sistema operativo in cui sta funzionando il server questo metodo secure file name pulirà sistemerà il nome del file prima che venga effettivamente salvato su disco sempre per il principio di prima che vale anche per la validazione del form che non bisogna fidarsi delle informazioni che arrivano dal client ma bisogna sempre verificarle di default e questo secure file name è un qualcosa che Flask mette a disposizione proprio per questo motivo quindi non è un qualcosa in più da installare non è un qualcosa neanche più da importare e semplicemente un qualcosa in più da utilizzare potrebbe essere quello oppure per esempio in certi sistemi operativi non puoi usare lo slash nel nome del file in altri sistemi operativi sì e quindi ovviamente se quello avesse un carattere di quel tipo ci pensa a sistemarlo sì esatto ha delle regole default che non possono essere cambiate allora quello che in genere si fa questo è un'opzione quello che in genere si fa è allora molto spesso non si usa il nome del file inviato dall'utente a meno che non sia dipende come è strutturata un po' la cartella quindi non si usa così non si fa una cartella uploads in cui si mette il nome del file perché la probabilità che due persone abbiano lo stesso nome del file può esistere può essere anche alta anche discreta e quindi se voi avete la prima persona che carica un'immagine che si chiama profilo.jpeg e la seconda persona che carica un'altra immagine che si chiama profilo.jpeg e le buttate insieme in una cartella che si chiama uploads un'immagine se la scrive l'altra e quindi entrambe le persone avranno profilo.jpeg quindi avranno l'immagine sbagliata allora o questa cartella uploads è più complicata per cui è uploads slash persona 1 slash profilo e upload slash persona 2 slash profilo.jpeg quindi c'è una struttura che collega lo username che collega delle informazioni specifiche oppure quello che si fa spesso è si usa un nome di default quindi si non si usa il nome originale ma gli si dà un nome un numero incrementale 1 2 3 4 e si associa per esempio sempre incrementale si associa poi ovviamente l'informazione questo 0 1 con se fosse l'immagine del profilo con la persona giusta quindi l'utente 1 caricherà profilo.jpeg che nel server verrà 0 1.jpeg e verrà associato all'utente 1 l'utente 2 caricherà un'altra immagine si chiamerà 0 2.jpeg e così via incrementalmente quindi il file si salva su disco e l'informazione del nome bisogna ovviamente metterla da qualche parte se c'è bisogno di fare qualche associazione ma questo di nuovo è un qualcosa che ha a che fare con la logica applicativa specifica di quello che volete fare quindi se avete di nuovo un sistema con login con l'autorizzazione a quel punto avrete delle informazioni sull'utente memorizzate da qualche parte e memorizzerete insieme a quell'informazione il nome il cognome la password eccetera anche qual è l'immagine del profilo e dove si trova su disco del server in modo che quando serve potete rileggerle e mandarle al browser per renderizzare il profilo dell'utente in maniera corretta però in altri casi può aver senso usare il nome del file originale e quindi flask che mette questa operazione con questo secure file name aggiuntivo per essere sicuri di non rischiare di compromettere la funzionalità del server ok questo è i form e ora noi abbiamo un problema col form nel senso che i valori in request.form scadono subito dopo essere stati utilizzati dopo essere stati letti quindi io inserisco nome cognome nome utente età li posso prendere come abbiamo visto li posso elaborare posso rimandare indietro il nome a un'altra pagina web e poi quelle informazioni sono perse per quello che abbiamo visto finora quindi la pagina avrà per esempio il nome la pagina dopo non avrà più queste informazioni sul nome per esempio perché sarà un'altra pagina un'altra richiesta e non avremo più request.form perché non ci sarà più un form quindi abbiamo bisogno qualche modo di ricordarci queste informazioni e ci sono due modi principalmente per ricordarci queste informazioni uno è quelli di metterli in un database che è una cosa che vedremo più avanti quindi giusto per per ricordarci avremo un database in stato su server Flask scriverà e leggerà informazioni in quel database e ovviamente dovremo scrivere del codice per aprire fare le query e quant'altro l'altra soluzione l'altro modo è quello di memorizzare alcune di queste informazioni in una sessione quindi tenere tipicamente temporaneamente queste informazioni in in questo oggetto che è la sessione e quindi avere la possibilità di utilizzare queste informazioni per un po' di tempo senza doverle salvare da qualche parte in un database ma mettendoli in questa sessione allora che cos'è una sessione e perché ci serve una sessione partiamo dal presupposto dal ricordarci che HTTP come protocollo è stateless cioè ogni richiesta è indipendente dalle altre e non ha visibilità su cosa succede nella richiesta precedente quindi se io mando il nome tramite un form e quella è una richiesta HTTP posso poi rispondere con una pagina HTML in risposta a quella richiesta HTTP con una pagina che dice benvenuto e il nome della persona che è stata inserita nel form ma appena clicco da un'altra parte nella mia applicazione web perdo tutte le informazioni che avevo prima perché questa è una nuova richiesta che non ha il minimo contatto con la richiesta precedente che aveva il nome che aveva l'informazione del form eccetera questo è il motivo per cui i valori in request.form scadono perché in realtà quelli sono validi solo all'interno della richiesta HTTP della richiesta HTTP e della risposta HTTP a cui sono associati quindi il form manda i dati in una richiesta riceverà a quella richiesta il browser una risposta una nuova pagina una pagina con l'errore eccetera e poi è una nuova richiesta che non ha la possibilità di recuperare nessuna delle informazioni precedenti ma noi nel web abbiamo anche esperienza di avere alcune informazioni tra pagine di ricaricare le pagine sì quello è uno degli effetti della sessione che è scaduta sì perché appunto abbiamo bisogno per noi di tenere alcune informazioni tra diverse interazioni per esempio il nome lo vorremmo su tutte le pagine non solo sulla pagina che viene dopo il login o il fatto stesso che abbiamo fatto il login non è che clicchiamo ad un altro link e perdiamo il login e dobbiamo rifare il login per andare a vedere un'altra pagina noi tipicamente facciamo il login e andiamo nella home page poi clicchiamo da qualche parte e rimaniamo loggati per un po' oppure mettiamo qualcosa in un carrello siete su Amazon comprato una cosa finisce nel carrello non è che quando cliccate ad un'altra parte per comprare un altro oggetto per vedere un altro oggetto quel carrello si svuota quel carrello rimane pieno ma quell'informazione non è ancora su server perché non l'avete ancora comprato davvero non avete ancora inserito l'indirizzo non l'avete ancora pagato è nel carrello e poi il carrello si svuota il carrello si riempie potete aggiungere cose potete e quello è tutto un qualcosa che avviene a livello di browser tipicamente quindi abbiamo bisogno di tenere delle informazioni uno stato mentre navighiamo non è il sito e alla sessione è in teoria un un modo di scambiare i dati in maniera interattiva quindi di memorizzare le informazioni nel browser ma anche di scambiarle col server per esempio per tenere il carrello pieno tra più pagine temporaneo quindi non per sempre quindi a un certo punto scade ma in maniera temporanea possiamo per un po' e il po' lo decidiamo lo decide tipicamente lo sviluppatore in base al bisogno e in base a delle best practice che esistono di tenere alcune informazioni per esempio il carrello e una sessione coinvolge più messaggi in ogni direzione quindi tra il browser e il server e tra il server e il browser su più richiesta HTTP perché se no non ci servirebbe e tipicamente in una sessione una delle due parti o il browser o il server mantengono queste informazioni per questo tempo memorizzate per questo tempo limitato mantengono in memoria per esempio queste informazioni o le scrivono su un file ma comunque per un tempo limitato e come queste informazioni vengono mandate e vengono scambiate e vengono tipicamente non solo ma tipicamente memorizzate nel browser vengono fatte attraverso un cookie quelli che tutte le volte compare la barra volete accettare i cookie sono loro che sono piccole informazioni memorizzate nel browser i cookie sono memorizzati nel browser non nel server quindi si possono cancellare in ogni momento da un browser e sono memorizzati nel cookie storage del browser che è uno degli storage che ogni browser ha a disposizione e sono gestiti automaticamente dai browser quindi il programmatore la persona non deve fare niente il browser sa come gestire i cookie e sono mandati se esiste un cookie per un certo dominio e per un certo percorso sono mandati ogni volta dal browser al server automaticamente quindi nel momento in cui c'è un cookie per la pagina X questo cookie quando si fa una richiesta a proposito della pagina X viene inviato al server che può leggerlo può fare delle operazioni e ovviamente un cookie scade a un certo punto e quindi di conseguenza tutto questo smette di funzionare ma dato che i cookie sono presenti sul browser e sono leggibili da ognuno quindi voi potete aprire nell'imposizione del browser l'elenco dei cookie e andare a leggere cosa c'è dentro ognuno di quelli per ogni sito che avete visitato e che lo utilizza se volete e non bisogna mai mettere delle informazioni che siano sensibili all'interno di un cookie primo perché stanno nel browser chiunque che ha accesso al vostro computer li può leggere secondo perché vengono inviati automaticamente di volta in volta tra il browser e il server quindi nel processo di trasferimento di nuovo ci potrebbero essere degli attori malevoli che vanno a leggere queste informazioni allora se voi nel cookie mettete il numero della vostra carta di credito con il codice quello dietro la carta di credito e capite che quello è un'informazione che può essere interessante per qualcuno e che inizia a fare acquisti con la vostra carta di credito quindi o se voi gestite un sito e mettete le informazioni dei vostri clienti in funzione della carta di credito dei vostri clienti in un cookie che poi viene mandato da una parte all'altra ovviamente esponete i dati dei vostri clienti a possibili attacchi e possibili utilizzi non autorizzati quindi un cookie dato che può essere letto da chiunque accede a un computer è bene non mettere dati sensibili e quindi dati non sensibili non importanti e un cookie ha una serie di attributi molti più di questi è un cookie standard qui ci sono è uno standard IETF con il suo RFC quindi ha una serie di attributi e il cui più importante sono questi cinque ha ovviamente un nome ha un valore che è l'informazione contenuta nel cookie che sono i due campi obbligatori poi ha altri tre valori che non sono obbligatori e uno è la data di scadenza quindi quanto tempo deve essere attivo questo cookie può essere un minuto può essere due giorni può essere un anno e poi ci sono altri due attributi che sono HTTP only che è un attributo di sicurezza in un certo senso che tipicamente viene settato che dice che il cookie sarà inaccessibile a qualunque tipo di codice javascript che viene eseguito nel browser questo perché di nuovo il cookie è leggibile quindi se io metto dell'informazione nel cookie e posso avere del codice di programmazione nel browser che legge questi cookie e me li mandi a un altro server non a me non al mio ma a un altro server che non è quello del browser ovviamente spongo di nuovo delle informazioni quindi questo tipicamente viene settato sempre e poi anche l'altro campo che andrebbe settato sempre noi non lo faremo ma andrebbe settato in un mondo di sviluppo di di deploy di un'applicazione web è il campo secure che dice che il cookie deve essere inviato dal browser solo ed esclusivamente se si utilizza una connessione HTTPS e non HTTP noi non la faremo perché useremo HTTP perché localhost è quello che utilizziamo in HTTP però se uno fa un sito fa un'applicazione per il pubblico tipicamente avrà un certificato tipicamente avrà attivato HTTPS e quindi può dire che tutte le informazioni che vanno scambiate dai browser al server andranno su una connessione criptata che è appunto HTTPS quindi ulteriore impostazione di sicurezza e una sessione tipicamente le sessioni usano i cookie non sono obbligate ma diciamo l'implementazione standard per far funzionare una sessione è quella di usare i cookie e una sessione funziona in questo modo allora immaginiamo usiamo come esempio la sessione del login perché è la sessione che poi alla fine si usa di più di tutte perché una volta che noi siamo loggati vogliamo rimanerci finché non premiamo sul logout tipicamente quindi immaginiamo questo è il nostro browser questo è il nostro server il nostro browser ha un form che è il form del login e il form del login farà una post all'indirizzo login e invierà nel corpo della richiesta HTTP il nostro nome utente la nostra password perché sono le uniche due informazioni che forniamo tipicamente per fare il login il server le riceve le verifica verifica se sono corrette e se è tutto a posto crea una sessione cioè crea da qualche parte in memoria quindi appena si spegne il server si perde tutto su file su un database e la scelta dello sviluppatore ognuno ha pro e contro una sessione cioè associa alle informazioni che ha sulla persona le informazioni che possono essere utili al browser e associa per esempio il nome utente e il nome della persona informazioni che il server ha già magari su un database magari da qualche altra parte e a queste informazioni gli dà un ID che è l'ID della sessione del singolo utente loggato in quel momento con quel browser diciamo 1,2,3,4 e manda indietro come risposta alla richiesta di login un cookie quindi genera un cookie lo manda indietro al server con dentro l'ID della sessione con solo l'ID della sessione quindi con 1,2,3,4 questo perché ovviamente l'ID della sessione è quello che al server basta per recuperare tutte le informazioni per verificare se l'utente è loggato o no ed è quello che poi il browser dovrà rimandare al server tutte le volte per provare di essere loggato per cui per cui lui saprà che il server saprà che la persona che ha fatto il login ha creato una sessione 1,2,3,4 invierà indietro la risposta al server con un cookie che conterrà 1,2,3,4 da quel momento in poi tutte le richieste conterranno da quel browser conterranno l'ID della sessione quindi conterranno il cookie con la sessione automaticamente una get una post eccetera quindi immaginiamo che il nostro browser chieda gli esami immaginiamo di essere di fare fatto il login sul portale e di voler sapere le liste degli esami che abbiamo fatto quindi il browser manderà la richiesta sugli esami con il cookie di sessione 1,2,3,4 il browser riceverà la richiesta e come prima cosa dirà il cookie il numero che c'è nel cookie è valido è una sessione valida per cui io sono autorizzato a rispondere a questa richiesta per l'utente specifico oppure no e se la risposta sarà sì allora invierà la risposta a quel messaggio HTTP senza il cookie perché il browser ormai ce l'ha già e finché non scade se lo tiene memorizzato se invece non è autorizzato il cookie è sbagliato l'ID della sessione è sbagliato questo session storage è stato cancellato per qualunque motivo perché era memorizzato in memoria e il server è stato spento e quindi non esiste più ma il cookie continua a rimanere dall'altra parte il server non trova più un match tra l'ID passato dal browser e l'ID che lui si aspetta memorizzato e quindi manda un messaggio d'errore che dice non posso rispondere alla tua richiesta perché tu non sei autorizzato e a quel punto la persona potrà per esempio fare il login di nuovo eccetera quindi questo e così via e così via per le richieste successive finché o il cookie non viene cancellato o la sessione da questa parte non viene cancellata per cui se il cookie viene cancellato la sessione esiste ancora lato server ma semplicemente non gli arriverà mai un ID che corrisponde a quello memorizzato se la sessione è cancellata vi arriveranno degli ID in un cookie dal browser ma semplicemente lui non le riconoscerà e quindi non gli potrà mai dare le informazioni indietro che gli servono allora questo è quello che capita quando la sessione è memorizzata nel server una cosa analoga può capitare quando la sessione è memorizzata nel browser per cui il server avrà meno informazioni ovviamente ma ci sarà sempre il cookie che va avanti indietro portandosi delle informazioni se la sessione è memorizzata nel browser il cookie non avrà solo l'ID di sessione ma avrà tutte le informazioni che servono e il server farà molto meno lavoro ovviamente quando la sessione è memorizzata nel browser il cookie sarà più grande e avrà tutta una serie di informazioni con maggior rischio di avere informazioni sensibili perché conterrà il nome il cognome eccetera eccetera tutte le informazioni che servono al browser quindi tipicamente le sessioni vengono create nel server e viene utilizzato solo un ID di sessione che è quello che permette al browser di dire sono ancora io sono ancora valido ridammi quelle informazioni che avevo bisogno questo vale nel caso di login che è ovviamente più complicato ma noi potremmo anche avere le sessioni in cui invece delle sessioni abbiamo il nome per esempio dell'utente e quindi mettiamo il nome dell'utente in un cookie il browser a quel punto non deve neanche verificare se il nome è sempre lo stesso riceve un cookie e dice va bene vai avanti e a quel punto lui leggerà il browser leggerà il nome dal cookie che già quindi in quel caso del nome il server magari riceverà il nome ma semplicemente non verificherà niente perché non è un'informazione importante per lui se fosse solo il nome della persona da visualizzare però questo nome in questo modo essendo memorizzato in un cookie rimarrà a disposizione del browser per tutte le richieste che farà per quel sito per quel dominio e per quel percorso specifico finché il cookie non scade o finché non viene cancellato a mano quindi questo è come funziona la sessione e ovviamente bisognerebbe sempre utilizzare HTTPS sicuramente i cookie quindi i cookie sicuri e HTTP only e di nuovo mai memorizzare informazioni sensibili quando possibile è sempre bene utilizzare soprattutto per il login in meccanismi che già esistono quindi estensioni o librerie che già permettono di fare il login perché loro implementano tutta una serie di best practice soprattutto dal punto di vista della sicurezza come HTTP only di default quindi non c'è bisogno di andare a creare un cookie a mano settare tutti i parametri ma ci pensa già la libreria a impostare tutto quello che serve e facilita la vita allo sviluppatore e per evitare tutta una serie di problemi di sicurezza ma anche perché il login è un processo oramai standard non ci sono qualcosa che può succedere nel login di così diverso tra un sito e l'altro quindi sfruttando delle librerie che implementano le best practice si evitano tutta una serie di problemi che poi è quello che faremo noi quando parleremo di autenticazione di login useremo una libreria un'estensione di Flask che ci permette di fare il login personalizzando quello che vogliamo fare ma ci implementa già le best practice alcune best practice per il login Flask ha di sua natura la possibilità di avere sessioni senza installare altro però le sessioni di default di Flask sono sessioni lato client quindi non fatte così quindi la sessione è tutta memorizzata in un cookie per cui Flask può andare a recuperare andare a salvare le informazioni in un cookie in questo modo quindi crea questo cookie qui con le informazioni che servono perché il browser possa utilizzarle in sessioni in momenti successivi e poi ovviamente nel template c'è sempre la possibilità di leggere le informazioni di questo cookie scrivendo session è la chiave che vogliamo andare a recuperare il cookie che vogliamo andare a recuperare ma ovviamente ha degli svantaggi quindi il cookie può diventare molto grosso i browser possono leggere tutte le informazioni quindi se avete informazioni sensibili di nuovo siete obbligati a mettere in un cookie a renderle visibili perché è l'unico modo di funzionare e il server non ha bisogno di memorizzare niente perché ovviamente tutto è nel cookie e tutto quindi è nel browser una volta che è creato però questo vuole anche dire che il server non può dire questa sessione è scaduta perché non ha modo di dire annulla quel cookie una volta che è creato deve aspettare che scada o che il browser lo cancelli quindi si preferisce le sessioni lato server dove tutti i dati come nell'esempio del login sono su server tranne un identificativo che viene passato avanti e indietro però l'identificativo è prettamente esadecimale e quindi non fornisce informazioni sensibili non ha informazioni particolari il server può cancellare revocare una sessione perché ha lui le informazioni sulla sessione quindi basta cancellarle e poi possono arrivare tutti i cookie di richiesta di sessione non importa lui non ha più un match con quell'ID e quindi non farà niente puoi memorizzare tutti i dati che vuoi perché a quel punto sei su un server puoi memorizzarli su file puoi memorizzarli su database puoi davvero memorizzarli in tanti posti diversi e anche se ovviamente c'è qualche problema che non ci tocca più di tanto ma c'è qualche problema di scalabilità perché tutte le informazioni sono su server quindi se noi avessimo bisogno di replicare delle parti di server ovviamente bisogna sincronizzare anche queste informazioni mentre in altro caso le informazioni vivono nel singolo browser della singola persona aperto in quel momento quindi le sessioni server side sono da preferire Flask purtroppo di sua natura non le offre però dato che sono da preferire esiste un'estensione di Flask che si chiama Flask Sessions che implementa le sessioni lato server quindi le sessioni lato Flask quindi noi useremo questo Flask Session come estensione che si installa con PIP implementa già di suo fortunatamente tutte le best practice per i cookie per esempio il fatto che un cookie sia HTTP only e se lo sviluppatore vuole può cambiare altre proprietà può mettere secure può toglierlo eccetera quindi lo sviluppatore può personalizzare le cose che questo estensioni fa e supporta di default sei tipi di storage per le sessioni lato server dove il default è niente però è uno dei sei tipi e supporta tra i vari tipi il file system quindi memorizza la sessione in un file all'interno del server anche il database un database normale tramite SQL Alchemy che abbiamo citato sempre qualche volta fa quindi la possibilità di usare poi l'estensione SQL Alchemy per memorizzare i dati di default della sessione all'interno di un database e si preoccupa l'estensione di fare tutto questo lavoro bisogna solo dirgli quello è il database quello è la tabella file e altri tipo Radism Cache e MongoDB che è un database non relazionale come funziona una sessione con questa estensione beh innanzitutto dopo averla installata bisogna importarla da Flask Cession Import Session bisogna configurare qual è il tipo di sessione che vogliamo la vogliamo su database lo vogliamo su file eccetera e in questo esempio la mettiamo su file anche perché non abbiamo un database poi bisogna creare una sessione per app semplicemente session aperta parentesi app e a quel punto quando vogliamo creare una sessione facciamo esattamente come facevamo prima con con Flask con le sessioni lato Flask Session l'ID la chiave che vogliamo utilizzare per contraddistinguere la sessione e l'informazione o le informazioni che vogliamo mettere nella sessione e lato template quando vogliamo accedere a delle informazioni che sono memorizzate in sessione scriviamo session punto la chiave o session aperta quadra come ho visto l'altra volta la chiave il nome del cookie il nome dell'informazione che vogliamo recuperare dalla sessione e quindi qui verrà messo il valore effettivo della sessione e possiamo anche verificare se esiste la sessione quindi stampare benvenuto nome della persona oppure stampare benvenuto e basta quindi ci dà questo oggetto session di nuovo che ci permette di verificare cose e recuperare le informazioni e tutto questo giusto per ribadire fa quello che abbiamo visualizzato qui quindi la sessione è memorizzata nel server quindi quel name andrà messo in questo session storage e creerà un cookie con una session ID a sua scelta complicata a piacere che verrà mandato al browser e ripeto il browser con tutte le richieste HTTP manderà di default il cookie non c'è bisogno di dirglielo se c'è un cookie per un dominio lui lo manda se dà poi il server sapere cosa farci in alcuni casi con le sessioni ma anche con i server ma anche con i form abbiamo poi bisogno di avere un redirect automatico cioè pensate all'operazione di logout l'operazione di logout distruggerà la sessione dell'utente che ha fatto login perché da un momento in poi quel browser non può più fare login automaticamente se non inserendo di nuovo nome utente e password ma non è che vi dirà logout fatto con successo tipicamente cosa fa? tipicamente vi mostra la home page o vi riporta una pagina specifica quindi non c'è bisogno di fare un render template della home page ma si può fare un redirect direttamente alla home page e quindi invece di fare render template index eccetera si può fare redirect URL for index quindi questo fa un redirect automatico dopo che l'operazione è stata svolta correttamente o anche no fa un redirect a una pagina a vostra scelta ed è esemplificato qui vedete che qui c'è un dice che se la richiesta è una post prende il il nome e la memorizza in sessione e fa un redirect alla index in questo caso memorizza solo il nome altrimenti se la richiesta fosse una get renderizzerebbe il new user che potrebbe essere per esempio un form in cui è possibile inserire il nome di un utente quindi io sono nella root poi vado su new user inserisco in questo form il mio nome lo mando con la post perché a questo punto è un form se è una post memorizzo il nome in sessione così posso visualizzarle in ogni pagina del sito finché il cookie non scade e a quel punto faccio un redirect alla home page perché se no sarei nella pagina new user quindi semplicemente dico ok ho memorizzato l'informazione ho fatto una sessione rispondo con una richiesta HTTP che è vuota ma che ha codice HTTP 302 e quindi gli permette di caricare una nuova pagina a scelta ma con le informazioni di sessione a questo punto attive memorizzate quindi in quel caso il nome della persona e appunto nel template la sessione si recupera in questo modo ovviamente non si scrive in qualcosa nella sessione perché ci penserà il server tramite un form o tramite qualcos'altro o tramite una richiesta HTTP che arriva ma si può leggere e si può prendere decisioni sulla base di quello che c'è o non c'è in questa sessione ok questo chiude la parte teorica concettuale sui form e le sessioni poi useremo le sessioni per il login per ora usiamole per appunto passare in giro il nome e il cognome delle persone quindi qualcosa di meno sensibile rispetto al login meno complicato anche rispetto al login ma possono essere utili per i form per recuperare alcune informazioni e mantenerle i tre concetti principali oltre al form e sono poi come si usano questi form in Flask e che cos'è una sessione client side server side il cookie eccetera quindi questi avete qualche giorno per digerirli diciamo così e come vi dicevo lunedì poi dedichiamo le tre ore se riusciamo a fare solo esclusivamente esercizi magari prima qualcosa di più semplice poi proviamo a inserire un form nel nostro sito blog in Flask sia quindi la parte html di template sia la parte di logica in cui verifichiamo i dati e decidiamo cosa fare e anche la parte di sessione ok buon pomeriggio a tutti se avete domande sto ancora qua 5 minuti mentre smonta